In questa notte splendida nasce nel 2007 per accompagnare la situazione di malattia che segnava una famiglia improvvisamente toccata dal tumore della mamma. Degli amici hanno deciso di offrire un pomeriggio di canti a questa famiglia. Da lì è nata in questa notte splendida l'idea di aprire il cuore attraverso il canto annunciando il Natale. Un gesto semplice, nato per fare compagnia ad una famiglia provata dalla sofferenza, è diventato negli anni un piccolo ma importante segno di riflessione, preghiera e speranza che alcuni cori di bambini e ragazzi di scuole e parrocchie offrono ai milanesi e ai turisti. Per il secondo anno consecutivo il palcoscenico del loro concerto è il Sagrato del Duomo e l'obiettivo è alleviare le fatiche di famiglie provate dalla mancanza di lavoro. Prima abbiamo cantato nei teatri e da due anni cantiamo sul Sagrato del Duomo per sostenere il Fondo Famiglia e Lavoro e per annunciare col Natale che per ciascuno c'è una speranza. Per chi è perso il lavoro, per chi è toccato della malattia, per chi è chiamato ogni giorno a rispondere a ciò che il Buon Dio gli offre.